Anche quest'anno, come è accaduto nel 2016, il grande pugilato fa tappa in Irpinia. In attesa di definire la data certa per la sfida europea di Carmine Tommasone, Avellino si prepara ad ospitare i campionati italiani youth per l'organizzazione dell'Accademia Pugilistica di Agostino Cardamone. Tommasone tenterà l'assalto del titolo entro il mese di novembre prossimo contro lo spagnolo Marc Vidal. La data non è stata ancora fissata, così come la sede, che dovrebbe essere tra Avellino e Solufra. Certa invece la data dei campionati italiani youth, che avranno luogo ad Avellino dal 17 al 19 novembre prossimo. Il campo di gara sarà il palazzetto del Country Sport di Picarelli, mentre il quartiere generale degli atleti, tecnici e dirigenti sarà dislocato tra il Dead della Ville di Avellino e il Green Park Hotel di Mercogliano. I campionati italiani youth sono organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana e avranno il patrocino dell'amministrazione comunale di Avellino. Sarà un evento da grandi numeri, oltre 600 tra atleti, maestri e dirigenti arriveranno ad Avellino. Si tratta di Pugili Under 18 che compiranno gli anni entro il 2017. Non è un torneo di inviti. Alla fase finale si accede tramite una fase di qualificazione che ogni regione ha indetto per le singole categorie. Quindi arriverà in Irpinia il top della gioventù pugilistica e questo darà modo ai tecnici federali di valutare nuovi atleti in questo triennio che preluderà le Olimpiadi di Tokyo. Ancora una volta quindi l'Irpinia sarà teatro di un evento nazionale di grande qualità e per tantissimi appassionati. Si stimano infatti oltre 2000 presenze di tifosi e di seguaci della grande box. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti